Lui vuole soltanto la Juventus, la Juventus però ci pensa e rimane dubbiosa. Negli ultimi tempi Gonzalo Higuain attraverso il suo entourage non ha fatto troppi giri di parole per fare capire che il suo desiderio sarebbe quello di tornare a Torino. Il problema sta nella concorrenza che il Pipita troverebbe nello scacchiere di Maurizio Sarri. L'intenzione dei bianconeri sarebbe invece quella di liberare l'attaccante argentino magari contribuendo al pagamento di una parte del suo ingaggio. Tra i piani B c'è la Roma di James e Pallotta, i giallorossi con l'arrivo del neotecnico Fonseca sono pronti ad aprire una nuova parentesi con una nuova idea di calcio in cui una punta come lui potrebbe fare molto ma molto comodo. 10 milioni di ingaggio a stagione pronti per Mauro Icardi. Questa è l'ultima indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli. In attesa di entrare nel tema cartellino con l'Inter, il club partenopeo pensa in grande con un possibile acquisto di peso e di prospettiva assolutamente unici. Si sa ormai che l'attaccante argentino potrebbe non rientrare nei piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte, mentre si rincorrono voci di un incontro tra la gente e moglie del giocatore Vandanara e il DS della Juventus Paratici, indiscrezioni che però al momento non trovano fondamento. Ecco quindi che l'idea Napoli diventa interessante. Il club di De Laurentiis si sta muovendo bene con l'acquisto di Manolas e le possibili cessioni di Isai, Mario Rui, Rog, che potrebbero garantire un bel tesoretto. E in attesa di capire quale potrebbe essere l'epilogo con Ames Rodriguez, il club guarda al futuro con un altro bomber argentino che potrebbe diventare protagonista con la maglia azzurra. Il Milan potrebbe comprare ancora dal Real Madrid, o almeno provarci. L'asse che si è creato tra Milano e Madrid sembra essere caldo e attivo anche dopo la conclusione dell'operazione Teo Hernandez. Così, al di là di Seballos, l'ultima indiscrezione che rimbalza dalla Spagna riguarda Mariano Diaz. Sarebbero state le merenghe se a proporla al diavolo, con Boba Neymaldini, che non avrebbero ancora detto no, ma che avrebbero preso tempo. Il Milan ha però un problema. Prima deve uscire uno tra Cutrone e Andresilva. Mariano Diaz era tornato a Madrid alla fine dello scorso mercato estivo, pagato 21 milioni di euro, dopo una stagione eccellente a Lione, che lo aveva prelevato proprio dalle merenghes, investendo solo 8 milioni. La sua annata è stata deludente. Solo 19 apparizioni e 4 centri. Insomma, nel caso si tratterebbe di una scommessa, in ragione pure dei 26 anni da compiere il prossimo 1 agosto. Che quest'anno la Ferrari avesse dovuto fare i conti con una Mercedes quasi perfetta lo si sapeva, ma immaginare un mondiale dove si è dovuti arrivare sino alla nona gara per non vedere una freccia d'argento tagliare il traguardo per prima, beh, forse no. Questo era difficile da immaginare. A deludere è stato in particolar modo Sebastian Vettel, il pilota tedesco a disatteso le aspettative dei tifosi, in un anno dove il cavallino avrebbe dovuto definitivamente colmare il gap con i colleghi tedeschi. Le speranze per il mondiale sono minime per non parlare di quello costruttori, una situazione che ha fatto circolare diverse voci sul futuro del ferrarista, ultima in ordine di tempo, il possibile approdo a Maranello di Max Verstappen. A mettere ordine ci pensa il team principal della rossa Mattia Binotto, che ai microfoni di Sky Sport ha confermato la presenza di Vettel anche per il 2020, rassicurazioni che però fanno appugnico i risultati, che è meglio invertire al più presto.